Il marketing sta subendo un'evoluzione e una trasformazione epocale in questi ultimi anni, non solo grazie alla rivoluzione digitale, ai big data e all'intelligenza artificiale, ma soprattutto per la spinta di nuove conoscenze, nuove metodologie, nuovi strumenti derivanti dalle neuroscienze, dalla psicologia cognitiva e dalle scienze comportamentali. Il marketing si è accorto che non bastano più i tradizionali sistemi di ricerca di mercato per conoscere i clienti o per testare nuovi prodotti, servizi o messaggi pubblicitari. Oggi, ma sempre più nel futuro, servono nuovi strumenti che possano indagare in profondità i clienti o meglio come decidono quali emozioni provano quando vivono un'esperienza di acquisto o scelgono un prodotto.